Greta è il suo antagonista Isabella. Greta e Isabella sono due bambine che sono inattaccabili. Nessuno si sognerebbe mai di attaccare delle bambine che pensano con il loro cervello. A quanto pare non è che pensano con il loro cervello, però diciamo che nel modo di pensare collettivo nessuno può mettersi contro Greta e Isabella. Greta fa la parte della perbenista e Isabella fa la parte della realista. In queste due parole non esiste un male, non c'è male. Perbenista sì, ma però, ma però, noi siamo contro l'inquinamento. Isabella invece dice, vabbè, comunque la scienza va avanti. Sono i due estremi, i due poli estremi della nostra società. È inutile che ci gira d'intorno, ragazzi. Sono i poli estremi della nostra società. Ricordatevi, destra e sinistra. La destra e sinistra sono un'illusione. E loro continuano ad illuderci con gli opposti. Ci devono offrire un'alternativa. O sei destra, o sei sinistra. Questo è un po' troppo di destra, questo è un po' troppo di sinistra. È un po' il contrario che fino adesso c'è stato. Adesso c'era il centro. Tutti andavano al centro, anche perché in una tavola, se stai al centro, tutte le cose da mangiare stavano al centro. E quindi era più facile. La mano riusciva a prendere le cose dal centro. Ma adesso c'è una controtendenza. Ed è praticamente destra e sinistra. Globalismo e perbenismo. È una cosa che dovete tener conto. Greta e Isabella. Le due icone del nostro modo di pensare. Il modo di pensare è moderno. O siamo contro o siamo pro. Allora, io dicono, queste persone, come possono essere definite? Innanzitutto sono dei parafulmini. E come parafulmini sono inattaccabili? In una casa, se noi mettiamo un'antenna con un po' di oro, che attrae le fulmini. Tutto può esplodere, tranne quell'antenna. Sì, da quell'antenna passa tutto. Si dice addirittura, un giornalista diceva che ogni volta che veniva intervistata Greta, che cosa succedeva? Nel momento in cui Greta aveva delle domande scomode, si toglieva il cappellino. Come si toglieva il cappellino, arrivava il suo manager a salvarla. No, adesso abbiamo da fare, Greta deve andare via. Ogni volta che si toglie il cappellino è un segnale. Un segnale di aiuto, cioè una specie di indicatore. Aiuto, sto in difficoltà, mi levo il cappellino. Sono inattaccabile perché sono una bambina, come Isabella. Perché dovevano combattere con le stesse armi, no? Greta, Isabella, dovevano essere a pari merito, con le armi, a parità di armi. Allora, io dico, non vi accorgete che vi stanno prendendo per i fondelli? È così difficile vedere che vi stanno prendendo per i fondelli. Io poi parlo molto pulito, non mi piace essere coercitivo con le parolacce. Però, vi stanno prendendo per i fondelli. Greta, la perbenisa, non buttiamo la carta per terra. E Isabella, ma sì, ma la scienza va avanti. La scienza deve andare avanti. The show must King Kong. Ma, ragà, per favore, per favore, riflettete. Quando serva aiuto, toglietevi il cappellino. Baci e abbracci. Spectro maledicto. Applausi e abbracci.